nell'ambito di un debate ciascuna squadra deve presentare almeno tre argomentazioni cioè tre motivazioni documentate a sostegno della propria posizione un'argomentazione efficace è un' argomentazione ben strutturata il modello più semplice per costruire un'argomentazione efficace è il modello arel arel è un acronimo di quattro termini inglesi a sta per assertion affermazione r sta per reasoning ragionamento e per evidence le prove a supporto dell'argomentazione l per link back la conclusione esaminiamo ciascuna voce nel dettaglio in relazione a questa mozione bisognerebbe abbassare a 16 anni l'età per votare immaginiamo di far parte della squadra di governo e di essere a favore della mozione introdurremo la nostra argomentazione con un'asserzione un'affermazione come questa estendere il diritto di voto ai 16 anni significa dare finalmente peso politico e visibilità alle istanze dei giovani l'assertion è una frase molto sintetica chiara ed efficace sul piano comunicativo all'assertion segue il reasoning il ragionamento attraverso il quale dovremo spiegare il perché della nostra affermazione un esempio potrebbe essere il seguente la questione climatica non è certo il primo punto dell'agenda politica dell'attuale classe dirigente nonostante i gridi di allarme che la fragile situazione idrogeologica del nostro territorio ci sta lanciando questo problema sta invece particolarmente a cuore alle giovani generazioni abbassando quindi l'età per votare a 16 anni aumenterà la percentuale dell'elettorato giovanile e questo costringerà i partiti e i movimenti politici a rimodulare e ad aggiornare i programmi per ottenere un consenso più ampio questo è un esempio di ragionamento ipotetico causale per cui se accade x cioè se si abbassa l'età per votare allora si verifica anche y ossia la questione ambientale assume un peso più rilevante nell'agenda politica della classe dirigente a questo punto sarà necessario dimostrare la validità di quanto affermato con le opportune evidence cioè con esempi e prove per dare fondamento concreto al nostro ragionamento potremmo dire che nelle più recenti rilevazioni condotte da eurobarometro su iniziativa del parlamento europeo è emerso proprio come i giovani europei considerino l'ambiente una delle principali priorità per le politiche pubbliche dei prossimi anni alla domanda su quali questioni siano più urgenti al primo posto a livello europeo c'è la lotta alla povertà e alla disuguaglianza il 43 per cento degli intervistati al secondo posto vi sono proprio la lotta al cambiamento climatico e la tutela ambientale con il 39 per cento degli intervistati che la indica fra le tre priorità principali al contrario stando a una ricerca condotta da tre ricercatori del leibniz institute for economic research tra il 2012 e il 2015 su 605 intervistati di età compresa tra i 18 e i 90 anni la quota di chi ritiene il problema ambientale molto importante decresce notevolmente tra sessantenni e ultra settantenni paradossalmente la categoria più esposta alle conseguenze del cambiamento climatico l'argomentazione si conclude con il link back link back significa ricollegare la conclusione dell'argomentazione deve infatti ricollegarsi alla mozione e alla linea argomentativa sostenuta dalla squadra in che modo innanzitutto con un connettivo appropriato poi con un richiamo alla mozione e alla posizione assunta dalla squadra per esempio pertanto riteniamo che sia necessario estendere ai sedicenni il diritto di voto perché in questo modo gli interessi delle giovani generazioni in primis la questione climatica avranno diritto di cittadinanza nell'agenda politica della classe dirigente e questo sarà un bene per tutti senza distinzione di età grazie a tutti grazie a tutti